Honda ha creato un'auto così avanzata che fa meno del carburante. Solar Car, l'auto mossa dal sole. Oggi costa più di 2 miliardi e non c'è spazio per i bambini. Ma quando i vostri figli cresceranno, probabilmente vi daranno un'auto così. Intanto potete trovare la stessa tecnologia in qualunque Honda voi scegliate. Honda, ciò che voi sognate, noi realizziamo.